Buono! 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 Vieni là! Buono! Che panecchia è questa? Buono! C'è? Buono! 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 Cosa ti znaš? Cosa? Cosa, vorrei. Cosa? Cosa? In 25. Cosa? Cosa? Ciao. 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 Cosa? Cosa? Non si può fare. No, no. No, no. Ma si può fare. Si può. Si può fare, per te farlo. Non si può fare. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, 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 oh. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti